Si arricchisce il panorama editoriale del Trentino. Il Dolomiti quotidiano e gratuito sarà online dal primo di settembre. Quattro redattori per ora che si occuperanno di informazione locale a scommettere su di loro alcuni imprenditori trentini. Gabriele Carletti. Sulla parete c'è la locandina del caso Spotlight, ultimo manifesto cinematografico del giornalismo d'inchiesta. Davanti al computer tre giornalisti, un quarto è fuori per servizio. E la redazione del Dolomiti, un nuovo quotidiano online in rete dal primo settembre. Una scommessa ambiziosa in epoca di difficoltà per l'editoria. Luca Pianesi, trentadue anni, è il direttore. Noi vogliamo fare qualcosa di diverso, non vivere solo di comunicati stampa, andare oltre, approfondire le notizie, lavorare di inchiesta per tornare ad essere vicini ai cittadini e dare un servizio. Per tante testate, anche nazionali, il web si è rivelato un boomerang. Banner e inserzioni non hanno infatti coperto i costi di un'informazione di qualità. Eppure loro sono fiduciosi o quantomeno convinti che un tentativo vada fatto. Noi contiamo di vivere grazie anche alla pubblicità. Sarà questa la nostra principale fonte di reddito e siamo sicuri che anche il territorio sia pronto da questo punto di vista. Intanto per il primo anno possono stare relativamente tranquilli. Un'accordata di cinque imprenditori trentini ha investito sul Dolomiti, tra loro l'ex presidente di Confindustria Paolo Mazzalai. Non solo perché come blogger del sito hanno arruolato parlamentari, segretari del sindacato e pezzi della società civile. Un quotidiano online, dunque, di lotta e di governo. All'informazione quotidiana, invece, penseranno loro, tutti figli di un'epoca di contratti precari nel mondo dell'informazione. La nostra volontà non è quella di avere un riscatto, la nostra volontà è quella di far fare umilmente un passo avanti all'informazione.